Ciao a tutti, oggi parliamo di configurazioni. Vediamo come impostare lo smartphone per navigare in internet dal cellulare. Infatti è necessario configurare il punto di accesso chiamato APN affinché la sim venga riconosciuta dalla rete Vodafone. Quindi cliccate su impostazioni, altre impostazioni, reti mobili, profili e accesso internet da cellulare. Verificate che l'APN sia correttamente impostato su mobile.vodafone.it. Nel caso non lo fosse cliccate sulla freccia per modificarlo. Se invece volete utilizzare il vostro telefono come modem cliccate sulla voce tethering internet e verificate che l'APN sia web.omnitel.it. Infine per inviare correttamente gli MMS verificate che l'APN sia mms.vodafone.it. Per verificare se l'offerta che avete sottoscritto vi permette di utilizzare il vostro smartphone come modem visitate il sito vodafone.it alla sezione 190 fai da te. Scoprite queste e le altre funzionalità del vostro smartphone consultando i manuali interattivi presenti nell'area assistenza del sito vodafone.it. Grazie e alla prossima!